Che i Coldplay facessero il tutto esaurito allo stadio di Guarmando Maradona di Fuorigrotta era scontato, che lo facessero dopo appena dieci minuti dall'apertura del botteghino era verosimilmente impensabile. Ma su questo si è aperta una disputa che verrà risolta solo domani mattina alle dieci, quando i tre siti chiamati a mettere in commercio i preziosi tagliandi per la band londinese comunicheranno se ci sono ancora, oppure no, biglietti per l'evento. Questa mattina in tantissimi si sono messi in coda, virtuale ovviamente, ma al momento dell'accesso hanno trovato la scritta vendita sospesa o vendita prevista a breve. In un primo momento si è pensato a un errore del sistema, ma poi sui social sono comparsi i primi biglietti acquistati dai fan. Bisogna dunque comprendere se è esaurita la parte di tagliandi prevista per la pre-prevendita o tutta la scorta dei 40.000 ticket per il Maradona. Nel frattempo, visto l'enorme successo, è arrivata una lieta notizia dal web. Nel pomeriggio, infatti, è comparsa una seconda data del tour a Napoli dei Coldplay. Al Maradona si replica il 22 giugno, per la felicità di tutti i fan che oggi sono rimasti a bocca asciutta.